cioè dovremmo creare un'altra collection facciamola qui quindi qui users logged collection is online last online date perché volevo affrontare le date volevo affrontare le date perché c'è un particolare tipo di data in Firebase quindi facciamo così e qui last online date appunti new date quindi questo qui ce l'abbiamo la data e lo andiamo a salvare qui usloghiamoci e adesso ci riloghiamo andiamo a fare un refresh dovremo trovare gli utenti però non ho aggiunto il last date qui nell'home component qualcosa che abbiamo fatto eccolo qua che va eccolo qua risolviamo il problema mettendoci un partial a parte che sto codice andrà buttato via però e adesso andiamo ad aggiornare e vedremo la data guardate un po' questa è la data questa è la data la vediamo meglio anche qui qui se vediamo qui se possiamo apprezzare magari se amplio allora questo è una stringa questo è una stringa questo è un timestamp di file store quindi loro hanno un modo particolare di salvare le date ma se tu lo salvi così poi puoi andare a fare anche i confronti quindi 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 eh allora qui salvo la data a questo punto creiamo un nuovo servizio che chiameremo users users service .ts qui andiamo a creare il servizio users service questo servizio lo immagino che mi darà ad esempio gli utenti collegati quindi eh andiamo prenderci questa cosa qui che mi serve quindi la portiamo qui mi serve il file store eccolo qua andiamo importare tutto questo per il momento possiamo toglierlo e qui facciamo users online è uguale facciamo questo perfetto private query users online via import questo qui ovviamente non è allora l'order buy lo facciamo per il last online date e facciamo un desk questa la cancelliamo qui il last online date allora ci semplifichiamo un po' la vita e ci andiamo installare un pochetto un pacchetto dai allora terminal e possiamo chiuderlo e dai chiuditi niente niente questo ok chiudiamo andiamo qua usciamo npm install date fns allora però c'è l'add ad hours e qui posso darglielo anche in negativo quindi import ad hours però from date fns e qui ci andiamo a importare ad hours perfetto quindi fammi vedere l'esempio qui dovrebbero esserci gli esempi eccolo qua ottimo quindi qui deve essere maggiore di add hours new date virgola 2 meno 2 a questo punto qui definiamo user filtered con voglio prendere tutti gli utenti che hanno last online date è superiore alle due ore cioè uno che non è più collegato da due ore lo vorrei sloccare no certo bisogna aggiornare questo last online date quindi qui facciamo this query users online a questo punto ci abbiamo lo user filtered e per vedere come viene fuori nella home page andiamo intanto qui ci andiamo a iniettare questo nuovo servizio private users uguale inject user service quindi in user facciamo così user service va ora in users filtered che sarebbe questo che siamo andati a definirlo qui tutta questa roba qui non ci interessa più qui siamo nel costruttore va benissimo adesso qui faccio this users filtered uguale this punto users service punto ma che l'ho chiamato user filtered ma stavo scherzando per oh cavolo users actives no è brutto user actives users online users online service ora sulla home non mi ricordo più che facciamo vedere allora questo lo cancelliamo questo lo cancelliamo e qui ci mettiamo un h1 users online e qui ci mettiamo un hr beh abbiamo formato non l'ho riavviato va bene qui c'è il debugger ancora attivo users online e qui mi ha fatto vedere ora facciamo facciamo così no questo lo rimettiamo qua e facciamo l'update user che avevamo fatto l'altro giorno qui quindi qui avevamo il doc però abbiamo il doc ref quindi dobbiamo prenderci i dati del documento quindi get doc e di doc ref punto get doc questo non dava esatto da una promise venne quindi sì quindi ci prendiamo il documento e ci prendiamo i dati che dovrebbe essere uno user profile quindi cost user profile uguale uguale ai dati quindi qui c'è lo user profile app is declared ok sì va bene a questo punto qui facciamo un set doc di doc ref virgola facciamo così virgola last online date e qui andiamo prenderci il nostro servizio lo andiamo ad aggiornare impostandogli una data che ne so facciamo finta che è collegato 8 ore fa quindi dovrebbe in automatico toglierlo via ad hours dov'è eccolo qua ad hours quindi new date virgola facciamo meno 3 meno 3 ore ok quindi lo aggiorniamo a meno 3 ore siamo qui l'utente è ancora collegato poi vedremo di formatare anche un po' meglio sta data e adesso se io prendo lo suo unique id e faccio l'update user voilà ora rifacciamoci vedere perché non abbiamo finito con la data intanto hai visto come è formatata la data no e ok adesso ha ripristinato e però magari vogliamo farla vedere un po' un po' meglio no quindi facciamo così eeeh facciamo così eeeh andiamo allora qui nella home questa è la home ok la pagina principale però nell'app component c'è la nav quindi qui facciamo un bel components e qui andiamo a creare un nuovo side nav component ts a meno component aspetta no questo lo facciamo online app side nav quindi side nav in che senso senza l'ho creata la cartella components questo livello è diciamo di root magari ci puoi mettere eh si lo mettiamo qua in size e ci mettiamo back tip user service uguale a inject user user service ok allora qui dobbiamo ciclare lo facciamo no massimo allora quindi u of the service punto questo questa è la query users online bypassing track track by dollaro index track ricordo track ok imports async pipe ah non è un stand alone stand alone true quindi allora qui metteremo dell'utente il suo display name e qui faremo uno small u punto u punto last online date a questo punto dovrebbe bastare lo andiamo a importare quindi lo mettiamo qua a vedere salviamo ma la pipe di angola non l'ha formata la date firebase eh facciamo la prova perché se qui metto il date pipe e lo andiamo a importare allora non funziona ma c'è un trick se io qui eh se io qui aspetta come si faceva perché se io faccio to date non me lo riconosce e devo dirgli as timestamp ma è così non funziona questo non gli piace immaginavo se io qui gli creo un get date last online date qui faccio due punti user profile qui faccio un bel return così user profile ma a fare sempre lo stesso errore per forza non lo trovava user profile model qui devo fare get last online date di you pipe date a questo punto ce l'ho eccola qua quindi perché questo qui sarebbe un timestamp e angularfire ce l'ha il timestamp ma l'ultima volta che l'ho provato a me non mi funzionava proviamo a vedere timestamp vedi non gli funziona perché questo è identificato come date ma il problema ce l'avrei anche se questo lo definisci come timestamp perché se lo definisco come timestamp di angular file store adesso andrebbe in errore tutto il resto e ad esempio qui è che last online date vedi non gli piace il timestamp quindi è un cane che si morde la coda l'unica soluzione che io ho trovato è questa cioè quello di convertire la data in any e fare il to date il to date è una funzione di firebase che ti converte questo timestamp quindi new folder pipes quindi new file new file .ts mamma mia quindi file store date .py questo facciamo così quick no quick eccolo qua il timestamp questo locale per il momento non mi importa qui mettiamo stand alone true qui torniamo una stringa vuota timestamp dei punti any quindi facciamo il timestamp to date qui ci vuole locale ok facciamo dal costruttore quello locale in questo momento sarà sarà in inglese a questo punto qui togliamo via questa schifezza perché fa proprio schifo quindi u punto tasto line date punto come la chiamiamo chiamata io from file store date pipe fire store pipe e andiamo a vedere cosa salta fuori e così abbiamo la data però qui ce l'abbiamo già formatata invece io non voglio formatarla qui perché la formatto poi con l'altro pipe quindi la trasformiamo into date quindi qui mettiamo date date pipe string questo costruttore non ci serve più andiamo a vedere che continua a funzionare quindi qui nel side nav date due punti giorno mese anno hh due punti mm due punti ss forse così mettiamolo in cascata quindi ci ricopiamo questo lo rimettiamo qui qui ci mettiamo l'ora qui ci mettiamo la data ovviamente qui facciamo class flex flex call item center justify start ok br item start no br eh che dici inizia a prendere un po' forma se adesso io questo faccio aggiornamento quindi faccio finta che sono passate tre ore scompare mh carino ovviamente dovremo riaggiornare la data ogni volta che l'utente inserirà un messaggio e direi che ci fermiamo qui diciamo